ciao a tutti oggi faremo un sentiero che è una parte del sentiero delle borgate ed è la parte che connette la strada asfaltata per i cammini del freius con la strada per poggio tre croci per arrivare al bivio dove parte il sentiero abbiamo superato la tour da moon e dopo circa 300 metri troviamo i cartelli con le indicazioni strada paradiso poggio tre croci sulla sinistra il sentiero si svolge tutto in piano sia nella prima che nella seconda parte e tutto nel bosco solo a metà abbiamo un punto prima di discesa e poi di salita in quanto dovremo attraversare il torrente larò su un ponte di legno ma lo vedremo dopo dopo circa 20 minuti di cammino in piano iniziano una serie di tornanti in discesa che ci porteranno fino a questo ponticello qua dietro che ci permetterà di attraversare il torrente larò e ci farà poi risalire verso la strada per poggio tre croci quindi qua finisce la dicesa inizia la salita e Eccoci arrivati al bivio con la strada per Poggio Trecroci Il nostro breve itinerario finisce qui Ora possiamo scegliere se scendere direttamente a Bardonecchia e quindi concludere la gita oppure se scendere e al primo tornante girare a destra e prendere la strada del Paradiso che è stata oggetto di un altro video precedente e raggiungere quindi Melezze